in questo video parleremo di tutti i prodotti di make up che ho utilizzato maggiormente in questo mese di settembre e però non è detto che tutti siano promossi allora iniziamo dalla base e come già vi ho detto nel video il tag che ho fatto che vi metto qui sto utilizzando tantissimo veramente tantissimo lo de ton della so bio ogni volta che lo dico mi sento così francese e mi piace davvero tanto ottima la coprenza ottima la tenuta mi piace veramente veramente tanto e stratificabilissimo ragazzi ha avuto un periodo di sfogo e mi ha aiutato tantissimo a coprire brufoletti rossori e quant'altro non lo apprezzavo prima perché sulla pelle secca non va per niente bene ma quando fa più caldo o comunque la pelle non è così sicca va benissimo quindi questo è il prodotto più utilizzato e che mi è piaciuto davvero tanto come palette occhi mi ripeto anche in questo caso ho utilizzato la sweet peach perché non essendome la portata in vacanza ed essendo colori molto caldi quindi che io adoro per l'estate mi sono rifatta il mese di settembre praticamente cioè sto scavando il fondo già di alcuni di alcuni di questi ombretti praticamente li ho utilizzati quasi tutti ma veramente quasi tutti questi due poi non ve lo dico proprio li utilizzo sempre questo come punto luce mi piace tantissimo guardate quanto è bello ma anche questo la palpebra da una luminosità e fantastica questi due marroni mischiati insieme danno un colore di transizione fantastico questo anche non mi dispiace affatto guardate non l'ho proprio presa guardate qua che luminosità ma sono fantastici e anche super scriventi qualcuno è più polveroso qualcuno meno ma niente di trascendentale non ci si può passare sopra l'odore almeno mi piace tantissimo di pesca e niente è una palette che io amo cioè è proprio la palette dell'estate questa è in tema di palette dell'estate ho utilizzato tantissimo questa palette della nyx questo quad che ha praticamente colori molto simili a la sweet peach se riesco ad aprirla ecco qua questo è un po polveroso perché questo ombretto che è l'unico che non mi piace tanto questo è un borgogna molto bello guardate qui matt stupendo poi c'è questo color caramello questo color aranciato veramente stupendo e poi c'è questo beggiolino che però è pieno di glitter che non mi piace perché glitter poi me li ritrovo sotto il viso se non ci fossero questi glitter sarebbe una palette veramente fantastica comunque super scrivente ci ho fatto ora ente un sacco di look sia per il giorno che per la sera nonostante siano solo quattro coloni ma è veramente fantastica questa è la numero 0 8 ci stanno diverse diverse combinazioni anche una con un verde molto bella sono molto validi questi ombretti quindi ve li sarà consiglio poi 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 ho utilizzato e rispolverato una terra di chicco di una vecchissima collezione non mi sbaglio una specchiatissimo scusate orientano cosa del genere che come potete vedere c'è un bel buco e io utilizzo la terra tantissimo perché un colore che mi piace molto questo qui è un bel marrone però sempre un po luminoso che come terra in questo periodo mi piace tanto a volte lo mischio anche con questo rosa e faccio praticamente un fard questa la utilizzo un po di meno ma neanche tanto perché mi piace anche sulla palpebra sotto l'arcata eccolo qui un bel colore comunque una paletta mi piace tantissimo infatti per un periodo l'ho tolta da mezzo che mi spiaceva che stava facendo il buco mi dispiaceva consumarla quindi vado un po per io di faccio ruotare un po i prodotti per non terminarli fissazioni poi ho utilizzato tantissimo la hula ancora una volta questa acqua di benefit in crema che io adoro sia da sola su tutto il viso perché non mi fa assolutamente il mascherone sia mischiata ad altri fondo tinta perché gli scurisce un poco quindi quei fondi per esempio che non tanto questo perché questo comunque una colorazione abbastanza scuretta che io ho preso in variera più scura però per altri fondo tinta che sono troppo chiari in questo periodo c'è ancora quel pizzico di abbronzatura mi aiuta tantissimo a raggiungere la mia colorazione oppure anche proprio come terra perché anche se cremosa non si mangia assolutamente fondo tinta quindi è un prodotto che ha è multifunzione ed è stato uno di acquisti migliori che abbia fatto per l'estate perché veramente come già vi ho detto è stato il mio fondo tinta dell'estate aspettate mi pulisco un pochino così si vede meglio ecco qua vedete da quel tocco di luminosità però assolutamente non siete degli un palumpa bellissima veramente un acquisto azzeccatissimo poi allora come correttore ho utilizzato moltissimo questo matitone aranciato della puro bio che ho notato che con il caldo diventa ancora più morbido è molto più facile da stendere mi aiuta tantissimo con le mie maledette occhiaie vedete cioè si stende veramente facilmente ma poi si fissa non secca assolutamente la parte lo preferisco in questo periodo rispetto all'inverno però in generale mi piace molto sto vedendo mi sono sporcata tutto il pantalone va bene e come correttori al di sopra andavo a mettere o quando avevo proprio le occhiaie strong il mio solito puro bio nella colorazione 0 3 o nel quale vi ho parlato 20 mila volte perciò vado veloce oppure il cancello età quando le occhiaie erano diciamo così così sempre nella colorazione nude perché ancora la light è troppo chiara per me poi come matita occhi ho rispolverato la magic pencil di nabla che mi piace sempre tantissimo questa è quella proprio originale adesso ce ne sono tre questa è la prima che uscì e mi piace tantissimo sia all'interno dell'occhio che come punto luce che ho usato per esempio oggi come punto luce o per definire qua sotto l'arcata è veramente una matita stupenda e poi si fissa all'interno dell'occhio che porca miseria non se ne va neanche a pregarla e niente mi piace tantissimo quindi questa l'ho usata molto anche perché ho fatto molto e molte volte dei trucchi strong e quindi mi andavo un po ad aprire il mio occhietto un po infossato come altra matita ho utilizzato la magnifica ice non sono non si legge più cavolo ragazze comunque è questa della rimmel dove da una parte c'era un rosa di un perlato in una bruttezza sconvolgente che mi si è rotto e caduto ma tanto io non l'utilizzavo perché era veramente da un rosa anziano e dall'altro invece questo color vinaccia bellissimo che purtroppo si sta seccando perché questo tappo fa schifo infatti il pack è un poco terribile questa matita color vinaccia che io ho utilizzato tantissimo sia come riga di eyeliner sia proprio all'interno dell'occhio si fissa fantastica una qualità ottima ma il pack fa veramente schifo ma schifo 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 quindi rimmel ti prego fammi una matita con un pack migliore perché il colore di questa soprattutto è spettacolare far risaltare tantissimo il verde degli occhi come fard o blush ho utilizzato tantissimo il numero 05 questo qua della kiko questo trio che utilizzo tutto quanto insieme setosissimo ragazze è un abbastanza chiaro ma che mi piace tantissimo in questo periodo perché da quel tocco sano soprattutto se prendete di più la parte scura guardate a me piace tantissimo si sfuma facilmente non è iper pigmentato ma è stratificabilissimo è molto sottile è un bellissimo card e poi su di me dura molto quindi mi mi piacciono tanto e penso voglio vedere altre colorazioni se c'è qualche altra colorazione che mi intriga allora come mascara invece ho utilizzato il better than sex della to face che purtroppo su di me non fa questo effetto wow e mi dispiace un sacco perché non sentivo parlare talmente bene io mi aspettavo veramente che le ciglia non so toccassero il cielo ma su di me non ha fatto questo questo effetto eppure sulle mie ciglia solitamente mascara anche i peggiori comunque fanno un effetto perché ho le delle ciglia molto lunghe e sembra sempre che un mascara chissà che performance dia ma con questo non sto avendo questi risultati aspetto che si secca un altro poco non lo so l'ho aperto da un mesetto e più ma ancora ancora non mi piace mi due il cuore e poi invece vabbè questo me ne ho parlato in 20.000 video lo sapete a memoria quello il mascara della tico dell'ultima collezione della neo noir e già ne ho ricomprato un altro quando andranno in sconto ne prenderò ancora un altro perché su di me ha un effetto spettacolare chico per favore mettilo in permanente poi e poi ho utilizzato dove sta il mascara che troverete o avrete già visto nei finiti della white con di un edizione limitata che pure mi piaceva molto era un top cut ma in realtà lo utilizzavo come mascara vero e proprio mi è piaciuto tantissimo ma è terminato poi ho utilizzato stranamente o luci da labbra perché ho scoperto i luci da luci da labbra della tico o tre colorazioni ma quella che ho utilizzato di più e questa color minaccia numero 30 ma mi piacciono tantissimo non sono appiccicose hanno veramente un'ottima tenuta c'è una gamma colori veramente ampia e i colori si vedono sulle labbra c'è un video in cui lo indosso ve lo mostro anche se mi ricordo ve lo metto qui ma sono veramente belli ci sono i nude ci sono colori più scuri più rosate aranciate per tutti i gusti e mi è piaciuto davvero tanto ragazzi ho riscoperto i luci da labbra veramente dopo tanto tempo come ulteriore rossetto ho utilizzato tantissimo il passion play della gerard cosmetic che ha questo pack bellissimo e questo colore fantasmagorico qui è il mio solito color fragola questi rossetti sono morbidissimi ma hanno una tenuta veramente spettacolare sulle labbra e io ne ho tre e veramente mi sto trovando benissimo dai colori più nudo a quelli appunto un po più forti e infine volevo mostrare un uno smalto perché mi ci sono trovata benissimo il colore secondo me è stupendo trovate la foto su instagram il numero 114 new demoiselle della dei della l'oreal di questi nuovi smalti all'olio fantastico ha avuto una tenuta di me di più di dieci giorni praticamente il colore bellissimo è un bianco con del rosa ma vi ripeto se andate su instagram vedete la foto e vi rendete conto di quanto è bello non è di quelli super coprenti quindi un po la lunetta si intravede perché comunque colore chiaro e non è un color gesso di base però nonostante questo è elegantissimo veramente andato a vedere la foto perché merita tantissimo e la qualità di questi smalti mi sta piacendo tantissimo quante volte ho detto tantissimo non lo so e niente ragazzi questi erano tutti i prodotti di make up che ho utilizzato a settembre maggiormente spero che il video vi sia piaciuto se viva ci vediamo al prossimo video un bacio e grazie per avermi seguita ciao cicas